Ciao cari amici, quest'anno come avete visto in Ucraina il Natale è stato spostato dalla solita data del festeggiamento di Natale Ortodosso di 7 gennaio, il Zelensky, il narcoführer di Kiev, seguendo ovviamente quella che è l'indicazione occidentale, ha deciso di spostare il festeggiamento del Natale Ortodosso dalla sua storica data alla data del Natale Cattolico, quindi 24-25 dicembre hanno festeggiato in Ucraina il Natale. Hanno festeggiato è un modo di dire, a mio avviso, un po' esagerato perché la gran parte dell'Ucraina ha ignorato questa decisione di Zelensky, gli ucraini comunque sono molto legati alla tradizione ortodossa, alla chiesa ortodossa, alla loro religione, che è comunque religione diffusa in tutto il territorio dell'ex Unione Sovietica e quindi nessuno è stato talmente demente da sostenere in massa questo cambio, questo folle cambio di abitudini e di tradizioni. Zelensky ha fatto un video veramente allucinante, io ho condiviso questo video sul mio canale privato Telegram, tra l'altro se qualcuno vuole approfondire può abbonarsi al mio canale, il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Zelensky ha fatto tutta una spettacolarizzazione da questa situazione, si è fatto riprendere di fronte a un monastero, a Lavra di Kiva Pichorsk, che adesso è vuota perché lui e i suoi nazisti hanno mandato via da lì monaci ortodossi perché questo personaggio sta facendo la guerra alla fede ortodossa, la guerra alle radici ortodosse ucraine. E lui si è fatto riprendere di fronte a questo luogo mentre diceva che finalmente Ucraina si sta avvicinando all'Occidente anche in questo giorno di Natale, adesso festeggeranno gli ucraini il Natale come tutti gli occidentali, 25 dicembre per cui fa tutti auguri e lui ha parlato di acquisizione dell'indipendenza spirituale. Lui ha detto seriamente questa frase, ha detto noi stiamo acquisendo l'indipendenza spirituale, quindi secondo loro la dipendenza può essere solo da mosca. Cioè Zelensky non comprende che sta allontanando l'intero popolo dalle proprie radici e lo sta rendendo dipendente dal sistema occidentale, dal sistema anglosassone e questa è una vera dipendenza anche forzata e violenta. In questo processo muoiono tantissimi ucraini. Zelensky la situazione la rappresenta da completamente punto di vista diverso. Secondo lui la vera dipendenza è quella da mosca. quindi cattivi russi che festeggiano il Natale il 7 dicembre, disumani, barbari. Noi dobbiamo festeggiare il Natale come tutte le persone civili il 25 dicembre. E per questo lui ha parlato dell'indipendenza un'indipendenza spirituale. Un'altra cosa interessante come questa festa è stata proposta sui canali di propaganda, perché la gran parte dei messaggi che sono arrivati, sono arrivati dai canali militaristi, apertamente nazisti. Ci sono stati le rappresentazioni di Cristo tutto palestrato con i muscoli, proprio hollywoodiano, come Rambo, con mitragliatrici, con dietro aerei da guerra che ha addosso dei mantelli delle cose che un po' ricordano anche un supereroe di Marvel con i simboli dell'Ucraina. Quando uno vede questa immagine dice qua non c'è neanche un concetto artistico, qua non c'è niente. Qua è totale follia, totale follia, fallimento completo della morale umana. E la cosa che ho notato in tutte queste, in tutti questi messaggi di sostegno del cambio della data del Natale, è che il messaggio di fondo è quello di fare torto ai russi. Non è che si dice noi cambiamo la data perché è così giusto, perché è così più comodo per noi, perché noi crediamo che così il Signore sarà più contento, non lo so. Tutti i messaggi sono basati su un messaggio di fondo che in pratica facciamo qualcosa pur di fare diverso da come fanno i russi. e quindi uno che osserva queste situazioni, seriamente si domanda e dice ma scusate ragazzi, tutto quello che voi state facendo, tutta questa vostra, tutti questi vostri sforzi, tutta questa la vostra volontà di cambiare radicalmente le antiche tradizioni. Si fondono quindi su un unico desiderio, cioè fare torto ai russi, dimostrare ai russi che voi non volete fare così come fanno loro. Ma se voi cambiate il Natale e spostate da 7 gennaio a 25 dicembre, non è che diventate persone migliori, non è che sparisce la vostra corruzione, non è che spariscono i nazisti, non è che spariscono le speculazioni, non è che improvvisamente in maniera magica sparisce l'estrema povertà, sfruttamento dei poveri, traffico di bambini che state organizzando, che state gestendo, traffico delle armi, di droga, tutto schifo che arriva dal vostro paese, non è che sparisce. Voi non diventerete più civili se sposterete il Natale, voi non diventerete ricchi come occidentali o non avrete la stessa capacità di interpretare magari i concetti che per voi sono difficili da comprendere, come la democrazia, la libertà e così via. se voi spostate il Natale, voi dovete spostare le cose dentro di voi, bisogna cambiare la propria mentalità, bisogna cambiare i propri atteggiamenti, ma non si cambia niente, semplicemente spostando il giorno di Natale, credendo di aver fatto chissà quale rivoluzione. Questo cari amici, secondo me, un ennesimo simbolo, segno, una conferma di quanto sia debole e miserabile la propaganda del regime di Zelensky. La totale assenza di un'idea politica trasforma questo sistema in un susseguirsi di provocazioni da spettacolo. E non c'è niente dietro, non c'è una seria intenzione di cambiare qualcosa in meglio, non c'è una vera e propria sincera volontà di migliorare la società in cui questo sistema vive ad opera. Questo sistema è un sistema tumorale, è un sistema che distrugge la società. E ovviamente questa storia con il spostamento del Natale è tragicomica, tragicomica. Mi dispiace per gli ucraini che sono finiti in questa situazione. Ovviamente c'è grande responsabilità civile da parte di tutti gli ucraini, perché loro hanno portato questa situazione anche a questo livello. Sono loro che uscivano a fare i Maidan, sono loro che hanno divulgato l'ideologia nazista, sono loro che hanno perseguitato i loro concittadini russofoni. C'è una gran parte di responsabilità sulla società ucraina. Però è ovvio che senza il leader del genere, senza intenzione dell'Occidente di sfruttare la debolezza mentale di una società, non sarebbe successo niente del genere. Comunque amici, io vi ringrazio per la vostra attenzione, per essere stati qui con me. Io come sempre vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per l'abbonamento troverete nella descrizione di questo video. Se volete sostenermi su YouTube vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare i miei video, a condividere i miei video con i vostri amici. Vi ricordo che in tutte le librerie in Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio. Si tratta di un libro in cui io racconto le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento leggetelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Amici, vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene.